Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappala e oggi siamo in un nuovo video. Oggi mi porto con me a rivivere uno dei sistemi operativi che tra l'altro il 25 ottobre ha compiuto 22 anni e abbiamo la stessa età. Quindi il video che state per vedere è un tuffo nei ricordi. Ragazzi, 2023 schermata di avvio di Windows XP, prepariamoci adesso a sentire la mitica musichetta che ci ha accompagnato in questi 22 anni. Windows XP Allora ragazzi, piccolo contrattempo, Windows XP non sta leggendo i cd ma i dvd li legge tranquillamente. Non è un problema di lettore perché il lettore funziona. Infatti ora qua andiamo a scegliere i cd e ora continueremo a provare. Allora ragazzi, sto insegnando a mio zio come usare Windows XP. Ho molta esperienza perché l'ho usato, ripeto, alle scuole elementari e diciamo che ripare le cose che ho fatto in Windows XP mi hanno in un certo senso fatto venire nostalgia di quei tempi. Aspettare ragazzi, lo voglio risentire. Ragazzi, aspettare. Vi presentiamo anche da un video. Siete pronti? Che ricordi quando spegnevamo ad elementari Windows. Bene ragazzi, con questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. E' stato bello rivivere questi ricordi di Windows XP. E adesso concludiamo per bene il video facendo Start e arrestiamo Windows XP. Bene, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.